Ciao a tutti, mi chiamo Yuri Biscaro e sono un chitarrista jazz. Ho studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e a fianco all'attività didattica con un'intensa attività concertistica in diversi progetti jazz e swing. In questo video vi presenterò brevemente il corso di chitarra moderna. Il corso è strutturato su programmi diversificati per età e livello di preparazione. L'obiettivo ultimo del corso sarà quello di fornire una panoramica di base completa sulle diverse sonorità che questo strumento ha nella musica moderna. Si partirà ovviamente da elementi di base, cubuni ai diversi stili e diversi linguaggi che compongono il variegato mosaico della musica moderna e che ci consentiranno di entrare direttamente nei meccanismi interni dello strumento. Poi, con percorsi progressivi e paralleli, si affronteranno invece gli elementi specifici di ogni stile, le diverse tecniche strumentali di volta in volta e coinvolte e le diverse possibilità timbriche, ritmiche, melodiche, armoniche che questo strumento può offrire. E questo attraverso lo studio di differenti repertori. Ad esempio studieremo il repertorio rock, oppure il blues, oppure il linguaggio jazzistico. Allora vi aspetto. Ciao!